Luca Lunghi nasce a Ferrara il 24 febbraio del 1975 con una paralisi ostetrica dell'arto superiore destro. Nel 1989 si avvicina alla para-roving il canottaggio paralimpico e in forza della società Cus Ferrara entra a far parte del nazionale junior e partecipa ai mondiali di Montreux 92. Da under 23 partecipa a tre coppie delle nazioni. Nel 94 decide di smettere con l'attività agonistica per concludere l'università e laurearsi in ingegneria dei materiali anche se continua a far parte del mondo del para-roving sia come tecnico che come dirigente nella società canottieri Ravenna. Ormai dirigente di una multinazionale nello sviluppo di applicazioni e assistenza tecnica per l'azienda che produce materie plastiche nel 2013 incontra Dario Naccari attuale tecnico della nazionale di para-roving che conoscendolo bene gli propone di ricominciare in vista anche delle paralimpie di Rio 2016. Così dopo 15 anni Luca Lunghi accetta di rimettersi in gioco e qualche mese dopo partecipa ai mondiali di Chung Yu nel 2013 come riserva e la sua barca conquista la medaglia d'argento. Tante medaglie e soddisfazioni in una carriera lunga seppur interrotta quella di Luca Lunghi che può ora festeggiare a qualificazione alle palimpiede di Rio 2016.